Gli ipogei paleocristiani di Santa Maria Regina di Siponto anche quest'anno hanno ospitato il presepe vivente, un evento molto suggestivo e toccante soprattutto quando si visita la natività all'interno di una grotta naturale. Molto particolari anche le botteghe degli artigiani con i bambini del luogo nei panni dei mestieranti. Aldo Caroleo, Archeoclub di Siponto. Questa iniziativa nasce dal fatto di voler intanto pubblicizzare questi ipogei che praticamente stanno da millenni qui, sono stati recuperati negli anni 50 e pochi conoscono questi luoghi. Sono stati, su di essi è stata costruita la nuova chiesa a fine degli anni 50 e 60. Quindi volutamente, si è voluto anche forzando un po' la mano in questo senso, organizzare un presepe vivente perché l'occasione intanto per la spiritualità e quindi la religiosità del momento, quindi una natività qui ha un senso diverso un po' perché si respira veramente il Natale qui. Nello stesso tempo è l'occasione per far conoscere alle persone che non conoscono questi luoghi di conoscerle e quindi di venire e di diffondere queste bellezze. Noi abbiamo ottenuto grandi risultati con queste iniziative, che ormai sono già sei anni che facciamo queste iniziative qua sotto, perché le scuole, per esempio, durante il periodo scolastico, vengono spesso, unendo sia la vista degli ipogei paleocristiani, sia anche al museo etnografico che è praticamente a fianco alla chiesa. Io sono della parroccia da sempre perché sto a Siponto da circa 40 anni, però sono anche il presidente dell'Archeoclub di Siponto e quindi con maggiore dedizione mi dedico a queste cose, anche con l'obiettivo di sensibilizzare al rispetto, alla conoscenza e alla tutela dei beni storici, archeologici di questa bellissima città.